Benvenuti nel cuore di News Mix Up. Prima di svelarvi gli avvenimenti di oggi, chiediamo il vostro sostegno, un semplice gesto, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale rappresentano per noi un segno di importanza immenso. Grazie di cuore. Roberto Baggio è stato vittima di una rapina nella sua tenuta di Altavilla Vicentina durante la partita tra Italia e Spagna, i ladri hanno agito intorno alle 22 con il volto coperto. Hanno rubato gioielli, con tanti e orologi, ma hanno lasciato intatti i cimeli calcistici di Baggio, sollevando interrogativi tra gli investigatori. I fan erano preoccupati per il pallone d'oro di Baggio, ma sembra che il trofeo sia custodito in una cassetta di sicurezza in banca. Gli investigatori stanno valutando due ipotesi, i ladri potrebbero non aver saputo informazioni su quello che c'era all'interno della casa, oppure non sono riusciti a trovare la stanza dove era conservato il cimelo. La seconda ipotesi sembra più plausibile, poiché i ladri si sono fermati per quasi 40 minuti senza mai trovare il trofeo, addirittura alcuni vociferano che potrebbero essere i figli di qualche conoscente di Baggio che sapevano come muoversi quella sera. Ovviamente queste sono voci di gossip infondate e da verificare, quindi la polizia continua le indagini per comprendere meglio il modus operandi dei rapinatori e determinare se l'azione fosse pianificata o improvvisata. E voi, cosa ne pensate, davvero potrebbe essere stato qualche conoscente? Lasciate la vostra idea qui sotto nei commenti e ricordatevi di iscrivervi al canale per rimanere e sempre aggiornati gratuitamente. Grazie di cuore.